Buongiorno dall'EICMA 2017, siamo qua come l'anno scorso per presentarvi la nostra visione delle due ruote. Vodafone va avanti su portare la visione della mobilità con esso, quello incluso con connected bikes and cars, shared mobility, electrification and a higher use on technology. Quelle quattro cose abbiamo già l'anno scorso introdotto con diversi casi motociclista come applicazione adesso con Yamaha, con Piaccio e con altri. In totale Vodafone c'è più di 10 milioni di veicoli con essi, vuol dire che sarà importante che adesso portiamo anche le due ruote. Per le due ruote un aspetto fondamentale è che il feeling, il riding experience rimane non toccato, vuol dire che quello che facciamo noi chiamavano augmented riding experience. Questo augmented riding experience coinvolve anche tecnologie come V2X che aiutano a protettare l'utente finale in un modo di comunicazione. Altre parti che presentiamo quest'anno, siamo avanti e passo avanti, anche la parte di shared mobility. Con Zeus, un fornitore di tecnologia o servizio, introduciamo un nuovo concetto di free floating. E il terzo, anche le parti dell'ecosistema, la nostra nuova piattaforma digitale, si permette di collegare diversi stakeholder dell'industria. Assicurazione, case auto, costruttisce, finale utente, così facciamo data sharing, revenue sharing, ma anche data monetization. In totale la visione sarà connessa e Vodafone siamo specializzati e dentro e vedete quelle che abbiamo quest'anno. Grazie.